e tanti altri progetti importanti e sicuramente andrà sempre più in alto la vorrei qui con me e poi le lascerò il palco ovviamente e con noi, non mi ricordo come si chiama, ciao Giulia Luzzi Ciao Giulia Facciamo un applauso gigantesco, grazie mille Massimo veramente ha ragione lui, io l'avevo invitato questa sera, buonasera a tutti l'ho invitato perché ho invitato un po' di amici perché questa è la mia città quindi mi faceva piacere avere, ciao vedo anche i bambini mi faceva piacere avere un po' di amici con me e Massimo oltre ad essere un grandissimo artista, cambio microfono approvasi, è un mio grande amico, abbiamo condiviso come ha detto tale e quale show infatti dopo vi darò anche un assaggino di quello io quest'anno ho avuto una grandissima opportunità che è stata quella di partecipare al festival di Sanremo e non ero sola, questa sera sono sola però comunque il pezzo va cantato lo stesso e questa canzone si intitola Togliamoci la voglia, grazie